5 curiosità sui Blue Sea Dragon in 50 secondi è un piccolo mollusco marino che vive nelle acque dell'Australia è conosciuto per il suo colore blu brillante e per le sue ali che sembrano ali di drago nonostante le dimensioni ridotte sono abili cacciatori di piccoli crostacei e plankton grazie alla sua colorazione e alla forma particolare riesce a confondersi con le alghe e a sfuggire ai predatori sono animali ermafroditi capaci di produrre sia uova che sperma durante il corteggiamento si avvolgono in un intricato ballo d'amore viene considerata una specie protetta a causa della sua vulnerabilità all'inquinamento marino e ai cambiamenti climatici se hai apprezzato il video non dimenticare di lasciare un like condividerlo e iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti grazie a tutti